Ciao, sono Antonio, imprenditore digitale. In questo video vediamo insieme come è possibile andare a vendere dei corsi online senza creare questi corsi e senza quindi metterci la faccia. È una cosa che penso che molti diranno, ma è impossibile, non è una cosa fattibile, perché effettivamente, allora, come fai a vendere quel corso? Perché il corso non lo fai tu, tu semplicemente ti devi occupare di venderlo e questa è una cosa che si può fare tramite il metodo del dropshipping digitale. Come molti sapranno, vendere corsi online è un qualcosa che ti permette di andare a slegare il tempo con quello che vai a guadagnare, perché appunto tu effettivamente non devi andare a fare il corso in diretta, non devi andare a creare una lezione online, un webinar, eccetera, non è necessario, ma appunto si può andare a vendere un qualcosa fatto con delle video lezioni, quindi un corso praticamente pre-registrato, poi man mano magari si può anche aggiornare se serve, e quindi ovviamente questo ti permette di vendere poi quel prodotto digitale a tutti gli effetti, che consiste proprio in dei video che vanno spiegando un qualcosa all'utente finale, che ovviamente andrà ad acquistare il tutto, così come magari acquista dei libri per imparare qualcosa, dei ebook, così come acquista qualsiasi cosa che appunto gli permette di apprendere una determinata skill, un'abilità o quant'altro. Il dropshipping digitale infatti è quello di cui ormai mi occupo da anni e non solo, insomma io mi occupo di svariate cose, tra cui appunto la vendita di prodotti digitali che sono oltre a videocorsi anche ebook, template, preset, insomma tramite il dropshipping digitale veramente si possono vendere tante cose, e poi io personalmente mi occupo di vendere anche prodotti fisici e quant'altro, però appunto il fatto di essere prodotti digitali ovviamente può essere un vantaggio, e questo perché ovviamente non devi spedire nulla, e quindi praticamente quando il cliente acquista da te magari nel tuo store online, praticamente gli invia lo store stesso un'email automatica dove il cliente potrà andare a scaricare quel determinato prodotto digitale, e quindi praticamente non dovrai neanche occuparti di andare poi a spedire un qualcosa al cliente, viene fatto tutto in automatico. Ed è proprio questo il bello di andare a vendere prodotti digitali, che in pratica tu non devi fare quasi nulla, devi soltanto mettere in vendita quel dato prodotto, quindi creare lo store online, ed è una cosa anche di cui in realtà molti non se ne devono occupare se insomma si rivolgono a me, perché lo store viene creato interamente da me, dove praticamente c'è tutto già pronto, tutto preimpostato, e poi mi devono soltanto magari fare giusto qualche modifica a seconda del prodotto che vogliono vendere, e poi praticamente il tutto, il sito, insomma lo store è pronto, quindi questo è quello anche che offro per coloro che decidono di accedere al progetto Freedom, il corso che trovate nella descrizione. Comunque sia, si tratta di un qualcosa di molto semplice, perché una volta che poi si ha lo store online, ovviamente questo store lo si deve far conoscere, e lo si può fare tramite vari metodi gratuiti, quindi tramite social fatti in un certo modo, insomma con dei video che poi diventano virali e quant'altro, ed è una cosa sempre che si può fare senza metterci la faccia, oppure si può andare a promuovere il relativo corso con le pubblicità a pagamento, e tra l'altro poi tramite i metodi che spiego sempre dentro il mio corso Progetto Freedom, ci sono 150 euro gratuiti che si potranno usare per fare le pubblicità, e questo perché appunto Google e Microsoft vi offriranno questi crediti pubblicitari gratuiti se appunto seguite i passaggi che vi spiego nel mio corso, e quindi è una cosa veramente ottimale, specialmente per chi sta iniziando adesso e non ha tanto budget per fare il tutto, quindi ovviamente è una cosa che semplifica di molto proprio l'avvio del business, così anche da catturare appunto sempre più clienti, senza spendere effettivamente nulla, quantomeno in pubblicità, quantomeno all'inizio, quindi è una cosa veramente veramente ottima. Quindi come potete ben capire io cerco veramente di dare il massimo per i miei studenti, cerco di fargli fare il tutto nella maniera migliore possibile, così che possano ottenere dei risultati concreti, e così appunto da poter strutturare un qualcosa che gli permette di guadagnare effettivamente online. E comunque quali sono poi i metodi per fare pubblicità a pagamento? Come vi dicevo si possono fare tramite Google, che ovviamente ti offre insomma determinati vantaggi, si possono fare tramite il motore di ricerca di Google, si può fare anche tramite YouTube, che è una sottocategoria in pratica delle Google Ads, e quindi ci sarà questo video magari che compare prima della visione di un video YouTube, di una data persona, magari comparirà il vostro videocorso sotto formato appunto video, senza che voi ci mettiate la faccia se non volete, basta realizzare un video o farlo realizzare a qualcun altro, e poi le persone accederanno al vostro store e potranno decidere ad esempio di acquistare da voi. Quindi è una cosa insomma fattibilissima, specialmente se si sa appunto come fare. Poi si può fare il tutto tramite Facebook Ads, quindi tramite le pubblicità che compaiono appunto su Facebook, dove la gente scrolla nella sua home, e poi magari gli compare un prodotto che può essere di loro interesse. Così come lo si può fare tramite il motore di ricerca di Bing, quindi di Microsoft, con le Microsoft Advertising, e poi si può fare anche in altri modi, tramite anche influencer marketing, insomma tramite Instagram e non solo. Ma addentriamoci meglio nel tutto per capire come si fa questo, effettivamente che cosa noi andiamo a vendere se noi non creiamo il corso e non ci mettiamo la faccia, che cosa effettivamente l'utente andrà a ricevere, e com'è che poi lo cominciamo ad acquistare da noi. Allora, praticamente ci sono vari siti, tra cui IDPLR, PLR Assassin, che è un altro tipo di sito, così come ce ne sono tanti altri che consiglio solo ed esclusivamente dentro il mio corso di formazione, e quindi praticamente vi posso fare alcuni esempi come IDPLR che tramite il loro sito insomma vi offrono oltre 12.500 prodotti da poter vendere e quindi che loro hanno creato, insomma qualcuno per loro ha creato, e ve li danno sotto licenza. Questo significa che voi avete una licenza che vi permette di fare tutto in maniera appunto a norma di legge per rivendere quei prodotti che loro vi offrono, quindi a loro non interessa se appunto prendete il prodotto che magari hanno realizzato loro, a loro interessa che lo andate a commercializzare, appunto a smerciare, e quindi è una cosa che vi permettono di fare, perché avete appunto questa licenza dove viene stabilito che voi potete rivendere quel prodotto che appunto non è neanche vostro, quindi non c'è una violazione di copyright o altro, tramite questa licenza lo potete fare senza alcun problema. Poi nel corso ovviamente approfondisco meglio il tutto, si tratta di prodotti appunto con la licenza che viene chiamata PLR, oppure anche ci sono altri tipi di licenze come la MRR e altri ancora, quindi ovviamente poi si può prendere uno di questi prodotti appunto sotto licenza e poi si può andare a commercializzare e creare uno store ad hoc che permetta di convogliare quante più persone possibili che vorranno andare ad acquistare da voi. Quindi qui nella sezione prodotti e video sarebbero i videocorsi, possiamo andare appunto a vedere i corsi sotto licenza Rizello, oppure Master Rizello, oppure Private Label, non vedete quelle giveaway e personal perché appunto non sono queste licenze che vi permettono di rivendere i prodotti. E qui praticamente appunto vi posso fare alcuni esempi, poi ce ne sono insomma molti di questi prodotti che si possono trovare appunto non solo in questo sito, ma in tantissimi altri e quindi praticamente ad esempio ci sono tutti i metodi per avere più traffico su Twitter, così come ci sono dei corsi relativi al chiudere clienti, insomma chiudere un affare, così come andare a capire come utilizzare WooCommerce che sarebbe insomma una piattaforma per appunto creare un proprio store di e-commerce, quindi ovviamente tutti questi corsi si possono vendere a persone interessate a creare un'azienda, che hanno già un business, insomma che vogliono appunto avere risultati migliori, oppure appunto che vogliono creare anche una sezione legata al commercio elettronico. Quindi ovviamente ci sono tante persone che sarebbero molto interessate. Questi in particolare sono dei corsi in inglese, quindi veramente un mercato molto ampio, che è anche di persone alto spendenti, proprio perché il mercato americano è composto da persone che molto facilmente insomma decidono di acquistare corsi di questo tipo anche a prezzo elevato, e quindi ovviamente potrebbe essere tutto veramente molto interessante. Poi possiamo vedere tutto quello che riguarda WordPress, che è un software così come come fare affiliate marketing, e quindi vendere prodotti tramite WordPress. Quindi praticamente WordPress è appunto una piattaforma anche che vi permette di fare dei siti, insomma si tratta di questo, come automatizzare i propri social network, così come ad esempio appunto fare e-commerce, come insomma fare magari delle Facebook Ads, se non sbaglio qui sotto dovremmo trovare anche appunto il corso legato alle pubblicità da fare su Facebook, ci sono anche dei sottocorsi, e ovviamente tutte le persone interessate a fare pubblicità su Facebook andranno ad acquistare perché vogliono imparare, vogliono apprendere anche meglio come fare il tutto per avere dei risultati migliori. Ci sono dei corsi anche per chi ha un canale YouTube, quindi come ottimizzare il proprio canale per essere sempre più visto, così come ci sono dei corsi per magari migliorare la propria produttività, come sbloccare il nostro potenziale appieno, insomma anche dei corsi che riguardano proprio lo yoga, la spiritualità, insomma legato a varie nicchie, e ne possiamo vendere veramente tanti, ci sono varie persone che ovviamente sarebbero interessate, quindi ovviamente noi ci possiamo offrire un corso che le aiuta proprio ad apprendere meglio quello a cui sono interessate. Adesso sono su un altro sito ancora, che appunto è quello che vi dicevo, PLR Assassin, poi ce ne sono ancora tanti altri, ad esempio qui c'è un corso sull'HTML, quindi ovviamente un linguaggio di markup, quindi non un linguaggio di programmazione, ma un linguaggio che ti permette proprio di andare a creare dei siti web, ci sono tanti giovani programmatori che magari possono essere interessati, coloro che magari frequentano un istituto tecnico industriale, oppure come il rispettivo magari in America, insomma ci sono ovviamente tante persone che potrebbero veramente essere interessate ad acquistare corsi di questo tipo. E quindi tramite il metodo che vi spiego dentro il progetto Freedom, avete effettivamente già tutto bello e pronto, perché se vi affidate a siti come questi, ovviamente il corso già è pronto, e quindi ovviamente voi non dovete fare nulla, effettivamente non dovete realizzarlo voi, perché già è fatto, quindi ovviamente poi dipende da come voi volete impostare il tutto. E' chiaro, se invece volete effettivamente voi andare a creare il corso, ben venga, lo potete anche fare su qualcosa su cui insomma avete una certa abilità, insomma se siete bravi con Photoshop, se siete bravi con i video, se siete bravi con qualcosa, anche cucinare, insomma dipingere, eccetera, chiaramente voi potete creare il relativo corso e i metodi che sono spiegati dentro il progetto Freedom valgono comunque. Così per invece tutte quelle persone che non vogliono creare il corso hanno appunto la possibilità di vendere comunque il tutto senza farlo loro in prima persona. Ed è una cosa che capisco benissimo se qualcuno appunto non si vuole esporre, perché effettivamente magari ci sono molte persone timide o che non sanno fare video, non sanno come realizzarli, come montarli, come insomma sistemare il tutto, avere una buona fotocamera o quant'altro. Quindi di conseguenza ci sono persone che vogliono comunque andare a guadagnare senza necessariamente essere loro ad esporsi, quindi essere un poco nei retroscena e vendere comunque effettivamente un qualcosa di utile alle persone. Quindi adesso ho cercato di spiegarvi il tutto in maniera abbastanza sintetica, ho cercato insomma di farvi capire come funziona il tutto e poi ovviamente in maniera approfondita, dettagliata, in maniera pratica, come si fa ogni cosa, viene spiegato dentro il progetto Freedom che come vi dicevo trovate nel link in descrizione oppure nel primo commento in evidenza. e poi da lì tramite il sito potete insomma vedere in cosa consiste insomma perché non si tratta soltanto di questo dentro il progetto Freedom spiego veramente di tutto e di più e quindi poi potete decidere di fare accesso. Quindi se questo video vi è stato utile potete lasciare un mi piace, potete andarlo a condividere, iscrivervi anche al canale per aiutare questo canale a crescere e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti!